Seconda parte della nostra segna sportiva, andiamo nel dettaglio di quanto è avvenuto in queste ore. Torniamo sul Corriere dello Sport perché il Napoli ha battuto la Fiorentina per 1-0, decide Cagliacone e la squadra di Sarri che era anche squalificato, quindi accede in semifinale e naturalmente guarda con grande interesse a Juve e Milan come avversarie. Una partita nella quale Insigne e Ricama e Cagliacone ci mette la firma, Napoli vola in semifinale di Coppa Italia battendo di misura la Fiorentina e regalandosi quindi un altro obiettivo stagionale raggiunto. I 95 minuti del San Paolo sono stati belli, a tratti vibranti con due squadre in forma che si sono affrontate senza paura, la differenza l'ha fatta Insigne e Diger Lunga il migliore in campo, scrive l'essensore di questo articolo. Naturalmente il Napoli ha alla lunga mostrato di avere un apporto, una qualità anche maggiore con una capacità anche di sbloccarla appunto nel finale ma la Fiorentina non ha mai demeritato fino in fondo. Lo dicono anche le statistiche della partita, basta pensare a una quasi parità di possesso palla e anche di duelli vinti. Una parità che però poi è stata sostanzialmente decisa dalla giocata singola, del singolo ancora una volta José Maria Cagliacone che ha sbloccato una partita. Insigne per Amsic, cross dalla sinistra per la testa di Cagliacone che da sottomisura non sbaglia per la grande esultanza dello stadio San Paolo. Ne ha naturalmente parlato il diretto interessato, Cagliacone che dice però bravo Napoli, Juventus-Milane è indifferente, abbiamo battuto una grande Fiorentina, ora testa al campionato. Amsic dice nessuna offerta dalla Cina. Stasera abbiamo fatto una partita seria a livello tattico, mentale e dimostrato un grande livello di attenzione, dice Cagliacone, abbiamo anche imparato a soffrire ed è importante. Amsic invece ricalca quella che è ormai una sorta di negia, una continuità di conferme, Napoli a vita, sono dieci anni e già una vita che sono qui e ho intenzione di restare. Non mi è arrivata nessuna offerta dalla Cina, dice alla RAI dopo la gara vinta contro la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. In Napoli riceve anche i complimenti di Paolo Sousa, abbiamo lottato la pari contro una grande squadra, la formazione di Sarri può lottare per lo scudetto. Credo che nel primo tempo abbiamo fatto bene, riuscendo a giocare una buona partita a pari merito. Dopo aver passato la prima linea di pressione abbiamo creato gioco con grande lucidità, qualche passaggio errato ci può stare. Nella ripresa siamo riusciti a far abbassare il blocco difensivo nel Napoli e ce la siamo giocata praticamente sempre alla pari. Il Napoli però è da scudetto, sia il Napoli che la Roma per qualità di rosa sono migliorati con degli acquisti importanti. Il Napoli può lottare tutta la stagione per queste diverse competizioni. Noi abbiamo giocato la pari, abbiamo saputo competere, l'abbiamo fatto anche contro Napoli come nelle scorse grandi partite, appunto un richiamo anche alla recente vittoria contro la Juventus in campionato per una Fiorentina che è in netta ripresa anche di convinzione. Nel Napoli è in netta ripresa anche però Milik, il polacco sta bene, Sarri potrebbe già convocarlo presto, contro il Palermo però sarà ampio turnover per Sarri. Improbabile che Sarri rinunce ancora a Mertens, l'ha risparmiato in campionato anche per offrire a Pavoletti la sua prima occasione dall'inizio. A Castelvolturno si è fatto rivedere Milik mostrando progressi rilevanti, la tentazione è quella di convocarlo già per fargli assaporare il campo. È un'ipotesi che non va scartata, serviranno comunque ancora giorni, ancora del tempo per riaverlo a pieno regime, la crescita però è netta, incoraggiante e la stessa abbondanza nell'organico d'attacco in qualche modo indica al tecnico Sarri di non rischiare e di prendersela comoda, scrive l'estensore di questo articolo che è Antonio Giordano per il Corriere dello Sport. Il Napoli che nel frattempo pensa già alla Champions League, 3917 posti per il Real Madrid, parte la corsa per i biglietti Champions, parte la prevendita per il Bernabeu, saranno pochi, tagliandi a disposizione, testa e cuore, tutti i napoletani sono già pronti a vibrare per assicurarsi un posticino nella partita d'elite, forse anche dell'intera stagione del Napoli. Un appuntamento imperdibile, un Napoli che si sente anche pronto per questo grande appuntamento di febbraio, gli ottavi di Champions League contro i campioni di Spagna e naturalmente anche proprio d'Europa con la vittoria in Champions dell'anno scorso. Questo invece è il calciomercato con tutti i trasferimenti già perfezionati, tanti giocatori che hanno già cambiato casacca, ad esempio c'era già stato il caso anche polemico di Stendardo a zero dall'Atalanta al Pescara, poi naturalmente Piniglia dall'Atalanta al Genoa anche qui con un prestito non senza polemiche, tante operazioni, in particolare quella di Rincon dal Genoa alla Juve per 8 milioni più 1, poi Pavoletti 16 più 2 milioni, una grande operazione economica vantaggiosa per il Genoa, poi Felipe Melo che dall'Inter va al Palmeiras a costo zero, Palmeiras attuale campione del Brasile Rao, poi ce ne sono ancora tanti di giocatori che si sono mossi, Aquilani anche qui con polemica dal Pescara al Sassuolo in prestito e ancora tante operazioni di turbe dalla Roma al Torino, prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di Euro, Iago Falche che dalla Roma è passato al Torino in modo definitivo, 6 milioni per il riscatto anticipato, Berenzi rischi dalla legge a Varsavia alla Samp per 2 milioni di Euro, Eramo dalla Samp al Benevento costo zero, ancora Bovo dal Torino al Pescara a costo zero, tante operazioni per il Pescara e come vedremo non è ancora finita, naturalmente non è neanche finita per le operazioni in corso, c'è quella ad esempio che si è riaperta con Niang, a inizio anno sembrava davvero imprescindibile per il Milan, adesso è rottura tra lui e Montella, Forever Niang no grazie, si legge nell'articolo del Corriere dello Sport, l'esterno adesso balla tra Genoa e Premier, bocciato da Montella il francese preferirebbe l'estero, mentre il Milan punta invece a uno scambio, tutto nasce quando il milanista all'antivigilia di Doha perse l'aereo, da lì c'è stato qualche trito con Montella, il Milan vorrebbe farlo tornare al Genoa in prestito per uno scambio con Ocampos o Lazovic, Genoa che tra l'altro non è nuovo a queste operazioni di andata e ritorno, anche a volte secondo diversi operatori di mercato indebolendosi, questo fa anche riferimento ad una questione ancora più annosa, ovvero la competitività del campionato di Serie A, con tante squadre, come possiamo vedere anche da questo box laterale del Corriere dello Sport, che sostanzialmente possono dirsi in qualche modo salve o comunque in una zona di cuscinetto tranquilla e quindi per mettersi anche operazioni in uscita di giocatori di grande comunque impatto, il Genoa recentemente ad esempio ha fatto uscire Pavoletti e Rincon, due pedine importanti, una pedina importante o comunque lo era nel passato è Cassano, il cui rapporto con l'altra squadra di Genova, ovvero la Samp, è davvero esaurito, Romei dice il braccio destro di Ferrero è un epilogo amaro, confermando la rottura con il giocatore, dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi, è un epilogo amaro ma non poteva essere diversamente, anche se abbiamo sognato a lungo che potesse essere diverso, ma le posizioni sono differenti, anche se entrambe legittime non può che concludersi in questo modo da tempo ormai. Casano e la Samp erano ai ferri corti, non è ai ferri corti De Frel con il Sassuolo, ma ha più volte chiesto la sua cessione per andare alla Samp, un nuovo contatto in queste ore tra appunto il suo procuratore, il Sassuolo stesso, e la Roma che ora deve ottenere una risposta proprio da parte della dirigenza emiliana. Dei passi avanti ci sono stati, anche secondo quanto raccontano i diretti interessati, l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevale ad esempio aveva detto che non c'erano dei passi avanti, ma che comunque la trattativa era in qualche modo aperta, tutto è in gioco, compresi anche i nomi di alcuni giovani come Marchizza, Tuminiello e Sec, giovani della Roma. Il procuratore di De Frel l'aveva detto proprio ieri, è un momento in cui occorre fare silenzio. Noi con questa notizia ci vediamo un attimo di pausa e ci vedremo subito dopo con la terza parte della nostra segna. A tra poco.